Lo sport, si sa, è un formidabile strumento di integrazione. A Castel San Giovanni lo dimostra il connubio tra la Castellana Basket e i ragazzi diversamente abili del centro, isola che non c'è. La società sportiva ha infatti deciso di adottare nove atleti diversamente abili, accogliendoli all'interno della società. I nove atleti speciali formeranno, anzi formano già una squadra con tanto di divisa, bianca e blu, e un logo, un coniglietto, che è anche il simbolo degli atleti della formazione regolamentare. I giovani diversamente abili si allenano tutti i venerdì al Palacastello, oggi destinato al volley e utilizzato anche dagli studenti delle scuole di Castel San Giovanni come palestra. La realizzazione di uno dei sogni della CIP, che è quella di far giocare assieme squadre convenzionali, come può essere la Castellana, con squadre di disabili, come è isola che non c'è. Oggi come oggi la realizzazione è ancora faticosa, però questo è uno dei pochi esempi validi anche realizzati nella provincia di Piacenza. La squadra partecipa a un campionato provinciale del centro sportivo italiano con altre sei squadre.